Tutti amici bentornati sul mio canale e benvenuti di nuovo sul mio canale allora oggi faremo qualcosa di diverso un po di manutenzioni per la casa allora ho deciso di cambiare una porta e farla come le porte che avevo chiamiamole antiche vecchie cioè quelle originali della casa quindi fallegniamo e me l'ha fatta adesso non mi rimane altro che pitturarla ma come la pitturo soltanto con un po di impregnante e basta per cui ci metteremo qua fuori a fare il lavoro ora vi faccio vedere la porta ecco qua la porta tutto il massello poi ho da fare questi i montanti e questo qua che è un altro pezzo che poi vi farò vedere ok il necessario sono due pennelli e impregnante e tanta voglia eccola qua adesso l'abbiamo sistemata è veramente bella molto molto bella adesso iniziamo con l'impregnante adesso prima la spazzoliamo un po così perché magari ci è rimasta un po di truccioli magari nel trasporto che che non facciamo le granelle e poi si inizia ok iniziamo userò un'impregnante all'acqua cerato per cui non puzza non fa niente molto molto ecologico in modo che anche quando è asciutto cioè anche dannolo subito diciamo mettendolo in casa non fa quel puzzo fastidioso ok buona visione ok iniziamo non inzuppiamo troppo il pennello sono poi dopo gocciola facciamo un lavoro cerchiamo di fare un bel lavoro pennello fantastico grazie a tutti 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 una cosa che dovete fare per dire qua non potete imbiancare così dovete seguire la venatura quindi così è corretto così no qui uguale così è corretto così no perché altrimenti si vede e diventa una schifezza grazie a tutti dai sta venendo davvero 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 bene perfetto allora la porta l'abbiamo finita ora peccato che c'è un po tempo un po offuscato non è nulo ma insomma non si vede bene peccato comunque non so se notate è davvero davvero venuta bene quindi che dire video appuntamento